Volete aprire un'azienda agricola ma non sapete da dove iniziare? Come prima cosa è importante avere in mente un'idea precisa di quella che sarà la tua attività. Questa idea deve essere correlata da un'analisi precisa dei mercati circostanti e della concorrenza, fattore importante e spesso sottovalutato. Altro punto importante è la creazione di un business plan economico e finanziario, una sorta di mappa del piano di lavoro. Una volta effettuati questi passaggi si saprà con precisione di che portata sarà l'investimento per aprire la tua azienda. In base al tipo di investimento ci sono diversi enti e banche predisposte. Vuoi saperne di più? Dai un'occhiata all'articolo completo. Lo trovi nel link presente nella descrizione di questo video. Buona lettura!